Oggi non mi va di essere allegro perché la Roma al primo tempo ha giocato male, malissimo. Abbiamo subito il gol, per me il rigore non c'era però, il VAR l'ha dato e il rigore c'è. Il secondo tempo la Roma è salita anche l'attentra, ha fatto un pochino meglio ma non mi è piaciuto lo stesso. C'era, abbiamo segnato, c'era un rigore mi pare sul Mkhitaryan però c'era anche un altro rigore sul Leao perché per me era il rigore quello. Però la cosa va avanti, vediamo un po', la Roma adesso sta un po' in difficoltà ma solo chi cade può risorgere. Quindi la Roma c'è come squadra, speriamo. E Fonseca deve fare i primi cambi, un po' sempre aspettare. Fonseca sta partita ce l'ha sulla coscienza, su questo lo dovevo dire. Comunque forza Roma sempre. Vedo la mia cosa sul rigore, il rigore per il Milan non c'era, ha preso prima il pallone e poi il giocatore. C'è una cosa allucinante. Il Milan per mandarlo in Champions sta andando a fare tutto. Quindi trenta di gore in squadra in Marocera. C'è una cosa allucinante.